Non c'è nina nanna che tenga. I bambini non dormono più come un tempo. Anche i più piccoli seguono dunque la tendenza degli adulti a stare svegli sempre più a lungo. Due importanti società di pediatria italiane ne forniscono i numeri. Sono soltanto due bambini su tre a dormire per un numero di ore adeguato. E le differenze tra nord e sud del paese sono evidenti. Il meridione è quello più insonne. Fino a 18 ore al giorno, quelli molto più piccoli. Oltretutto durante il sonno in particolare viene prodotto anche l'ormone della crescita per cui più i bambini dormono tranquilli e sereni più hanno potenzialità di crescere meglio. Un tempo per prendere sonno bastava un buon libro sostituito da cellulari e tablet. La linea rossa indica quanti usano i dispositivi elettronici prima di addormentarsi. A 13 anni sono quasi l'80%. Una pessima abitudine. Perché riduce innanzitutto la quantità di sonno, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo perché molti giochi incitano all'aggressività. L'altra cosa è l'utilizzo di sostanze nei bambini più grandi eccitanti come può essere la caffeina, quindi la coca cola, il tè o bevante zuccherine. O ancora in quelli più piccoli genitori ci li faccio stancare così poi dormono più tranquillamente. Ecco, farli eccitare immediatamente prima di andare a dormire ottiene esattamente l'effetto opposto. Attenzione inoltre perché chi dorme poco e male da piccolo rischia di farlo anche da grande. Infine, dove si dorme? Il grafico mostra come quasi un bambino su tre, fra i più piccoli, dorma insieme ai genitori. Il lettone di mamma e papà per tanti anni demonizzato è il caso di riabilitarlo? Io direi di sì, nel senso che ognuno ha i suoi tempi, quindi per i più grandi può essere un modo per stare di più vicino ai propri genitori, però attenzione a quelli più piccoli perché il rischio di soffocamento da parte dei genitori c'è, quindi i più piccoli devono stare nel loro lettino.